Per l'uomo che vuole curare ogni minimo dettaglio, Nietzsche in lui è la risposta, via Giuseppe del Papa, in pieno centro storico, ad Empoli. Questo è il mio cuore, questo è il mio respiro, questa è la mia casa, questo è il mio sogno, questa è la mia famiglia, questa è la serie B-Win. La mia famiglia è la mia famiglia, questa è la mia famiglia, questa è la mia famiglia, La mia famiglia è la mia famiglia, questa 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 è la Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.